Cosa fa Totum migliorare il suo antenato, diciamo, SIGMANET? Soprattutto nel fatto che ha tutta una serie di attività potenzialmente attivabili che consentono di migliorare lo scambio di informazioni tra le scuole e i tecnici della città metropolitana che gestiscono gli interventi. In particolare, in questa fase, viene attivato il modulo per le segnalazioni di richieste di interventi di manualizzazione ordinaria, che era esattamente quello che faceva il precedente applicativo che era SIGMANET, ma in prospettiva verranno attivate tutta un'altra serie di attività che fa Totum consente di avere, soprattutto legate al caricamento di informazioni tecniche relative agli edifici scolastici, le planimetrie interattive dei vari piani, i documenti certificativi tipo i collaudi, le dichiarazioni degli impianti e così via, consentendo poi agli operatori della scuola che sono abilitati di attingere da questa piattaforma web per scaricare all'occorrenza le informazioni che servono sull'edificio scolastico.